La Honda Olivero San Bernardo Cuneo si prepara per la sfida in casa di Bussarsizio, domenica alle ore 17 siamo in compagnia di Lena Stigrot per avvicinarci a questa partita. Lena, arrivate da una gara combattuta in casa contro Scandici con la big di questo campionato, è arrivata una sconfitta ma una prestazione comunque in crescita nel corso della gara, io ti faccio un attimo tornare indietro a questa partita, l'avrete anche rianalizzata in settimana, quali sono gli spunti più interessanti che avete trovato in questa gara e che gara è stata? Sì, come hai detto tu erano delle note positive in questa gara, per esempio Anna Lillusi ha fatto un gran lavoro in attacco per esempio, invece qualche altra abbiamo un po' sofferto in questo elemento quindi sarà importante di prendere ritmo in attacco sin da subito nella prossima gara. Poi abbiamo fatto un buon lavoro in ricezione, penso che abbiamo trovato un bel equilibrio in questo elemento e poi possiamo lavorare ancora e sempre con il muro di difesa, è un elemento molto complicato però molto importante e secondo me possiamo fare un po' meglio in questo elemento. Adesso domenica c'è questa partita contro Busto, sicuramente questa è una partita importante, una partita che dovete provare a vincere a tutti i costi per fare dei punti e risalire un po' la classifica, che gara ti aspetti e che Busto pensi che troverete? Sì esatto, secondo me sarà molto importante di scendere in campo nell'approccio giusto, sin da subito, a partire dalla battuta e poi di essere molto aggressive, a loro fanno capire che noi vogliamo vincere oggi. Quindi questa sarà la chiave secondo me e poi ci aspettiamo una gara difficile perché anche loro sono in crescita, anche adesso quando hanno cambiato allenatore e tutto, però a volte questo è anche un po' pericoloso per la spinta che ha la squadra, quindi ci aspettiamo una gara difficile però noi arriviamo con l'agonismo giusto e speriamo di vincere. Vi aspettano due trasferte consecutive prima di tornare qui a Cuneo, ecco questo è un 1-2 per voi che può essere veramente importante per capire questa Cuneo, insomma che ruolo potrà recitare e che tipo di campionato potrà giocare, no? Penso. Sì assolutamente queste due partite sono fondamentali, assolutamente valgono un po' di più, diciamo così, quindi queste due settimane sono molto importanti, ci siamo preparati bene, quindi spero che possiamo parlare di nuovo tra due settimane e dire ok, questo siamo noi e siamo soddisfatti.